A un anno di distanza dalla scadenza naturale della giunta Coppola, amministrazione parliamo di Castellammare del Golfo, arriva un atto forte, una sua scelta, quella di dimettersi. Per lei ne ha fatto un suo cavallo di battaglia, una sua scelta politica. Avevamo posto fra le nostre priorità quella della rotazione dei capi settore presenti al comune di Castellammare del Golfo. Abbiamo fatto una battaglia proprio perché tra l'altro è la legge anticorruzione che ce lo impone, ma a seguito di questa nostra richiesta nessun risultato, nessuna risposta è arrivata da parte del Sindaco. Siamo arrivati addirittura nel mese di dicembre 2016 a presentare un atto di indirizzo in tal senso in Consiglio Comunale, quasi come un primo grido d'allarme che il nostro gruppo consigliare mandava ai restanti colleghi della maggioranza. Non è stato colto, oggi la naturale conseguenza è la nostra uscita dall'amministrazione Coppola e di conseguenza dalla maggioranza. Perché questa scelta di non ruotare i dirigenti non viene presa? È evidente che esistono delle difficoltà per i piccoli comuni ad effettuare questa ruotazione. Come se lo spiega? Il ragioniere capo, per chiamarlo con un termine più terra-terra, è uno e quello deve essere. Il capo dell'ufficio tecnico è ovvio che deve essere comunque un ingegnere. Noi siamo arrivati addirittura a scendere nella nostra richiesta e a limitarci alla rotazione dei funzionari. Con grosso rammarico abbiamo però dovuto cogliere la chiusura di Coppola anche sulla rotazione dei funzionari. A un anno dalla scadenza naturale dall'amministrazione Coppola, questa sua scelta? Se Coppola avesse dato seguito alle nostre richieste, quindi se avesse dotato Castellammare di un servizio di navetta per mettere in collegamento il nuovo parcheggio nei pressi dello stadio con il centro storico, se Coppola avesse dato l'input agli uffici preposti per realizzare la gara per l'affidamento del nuovo servizio di tesoreria, se Coppola avesse dato seguito alla nostra richiesta di nuova gara per l'affidamento dei parcheggi a pagamento, delle cosiddette strisce blu, se Coppola avesse dato l'input all'ufficio preposto di dare seguito a quella richiesta di contrazione di mutuo che il Consiglio Comunale ha deliberato a dicembre 2015 per asfaltare 20 chilometri di strade o buona parte di questo, Coppola sarebbe stato il nostro candidato sindaco naturale. Le bruciano più quello che Coppola ha apparezzato o la rotazione che Coppola non ha fatto? Ma no, guardi, non è un problema. Avevo chiesto pure a Coppola l'incremento del numero di telecamere per meglio regolamentare e gestire le zone a traffico limitato. Per un comune quindi ad altissima vocazione turistica, non possiamo assolutamente consentire che le zone a traffico limitato vengano svolte dal personale di protezione civile. Voglio ringraziare il sindaco Coppola per avermi dato la possibilità di fare comunque quella che per me resta un'esperienza, resta comunque un arricchimento culturale, un arricchimento politico. È evidente e capisco anche e comprendo anche che probabilmente molte delle sue difficoltà sono dovute al fatto che magari non si è reso conto che rispetto a 30 anni fa la politica, il modo di gestire la pubblica amministrazione è totalmente cambiato.